Cari italiani, cari italiane, faccio questo discorso come se fossi Presidente della Repubblica. L'anno 2020 sta finendo. È stato un anno diverso dai precedenti. Abbiamo dovuto affrontare sfide insolite. Ma questo è niente in confronto a tante sfide che affrontiamo abitualmente. Noi umani temiamo le cose sconosciute, nonché le cose insolite, se queste ci fanno danni anche di poco conto. Ma ci abituiamo dopo un po' di tempo in cui il fatto persiste, indipendentemente dai danni che provoca. Probabilmente molti di voi hanno capito di cosa devo parlare. Quest'anno abbiamo conosciuto il coronavirus, che ha fatto danni all'umanità, ha ucciso più di un milione di esseri umani, mandando tanti altri all'ospedale. Meritano di essere ricordati. Infatti non sarò io a negare l'emergenza in corso. Ma questa gente... ma quanta gente muore ogni anno per altre cause? Vogliamo parlare delle altre malattie? Vogliamo parlare degli incidenti stradali? Vogliamo parlare dei omicidi? Vogliamo parlare delle catastrofi naturali? Grazie al coronavirus, tanta gente ha dimenticato i terremoti di L'Aquila e la Marrice, nonché il naufragio della Costa Concordia e il crollo del Ponte Morandi. Sono i primi esempi che mi vengono in mente, ma potrei farne altri. Il governo Conte ha approfittato dell'emergenza per imporre provvedimenti che altrimenti sarebbero stati difficili da accettare. Probabilmente gli stessi provvedimenti sarebbero stati etichettati come fascisti se fossero stati imposti da qualcun altro. Quando l'emergenza sarà finita, ci saranno ulteriori cambiamenti. Non so se in meglio o in peggio. Il telelavoro ha ridotto il traffico sulle strade, ma bisogna applicare anche altre soluzioni, di cui ho parlato nel mio canale YouTube e di cui riprenderò a parlare. Ricordo la gente che cantava l'inno italiano durante il confinamento. Spero che sia l'inizio di qualcosa di concreto, perché le parole sono inutili senza i fatti. Mi piacerebbe che si sviluppasse un maggiore senso della comunità, ma ci credo poco, da quando ho avuto certe discussioni con persone di mia conoscenza, proprio durante l'emergenza coronavirus, anche se dopo il periodo di confinamento. Questo mi porterebbe a parlare della violenza domestica, che è aumentata grazie al confinamento. Anche questo problema può e deve essere risolto. Ora le forze dell'ordine sono molto presenti sulle strade, anche su strade che prima erano dominate dai criminali. Questo mi fa capire che il governo ha tutti i mezzi per risolvere il problema della criminalità. Il governo può fare molto per i cittadini, ma anche noi possiamo fare molto per la nostra comunità. credo negli esseri umani, ma certi fatti di quest'anno mi fanno capire che ci vuole ben altro per ottenere i cambiamenti necessari per dare all'umanità un futuro migliore. Buona fortuna a tutta l'umanità. Buon 2021. Viva l'Italia. Viva l'umanità. Viva la Terra. Viva l'Italia. Viva l'Italia. Viva l'Italia. Viva l'Italia.